Questore, buongiorno, siamo qui davanti al Palazzo del Picchetto, è in corso lo sgombero del palazzo, un'operazione tanto sospirata dalla città per un punto di vista di sicurezza. Sì, stiamo eseguendo un provvedimento dell'autorità giudiziaria di sequestro di questo sito, non tanto per l'occupazione ma tanto perché all'interno venivano commessi dei reati, quindi sia la squadra mobile che la DICOS della questura hanno raccolto una serie di elementi che hanno determinato la G ad emettere questo provvedimento. Mi sembra abbastanza tranquillo anche perché la maggior parte delle persone in fragilità, grazie alla collaborazione dei servizi sociali del Comune, saranno assistite. Purtroppo abbiamo dovuto momentaneamente un pochettino dare qualche fastidio alla viabilità, ma era necessario per poter agire in sicurezza. Grazie mille.